Siamo in compagnia di Stefano Dorazio, figura storica di Pù, allora 50 anni quest'anno cosa prova per questo importante traguardo? Ma sicuramente una grossa emozione perché essere riusciti ad arrivare a 50 anni di storia non lo immaginavamo davvero quando abbiamo iniziato pensavamo di giocare a fare quelli che suonavano, poi anno dopo anno ci siamo resi conto che la nostra passione stava diventando un mestiere e poi avendo continuato sempre a lavorare e forse senza esserci resi ben conto di quello che ci stava accadendo, anno dopo anno appunto siamo andati avanti, ci siamo inventati una nostra linea una nostra dimensione, un nostro spazio, abbiamo girato un po' dappertutto, c'è Fiorello che mi dice sempre Dio esiste ma i Pucci hanno già suonato ed è vero perché in 50 anni abbiamo attraversato ogni angolo e abbiamo forse anche seminato bene perché il fatto di avere così tanta gente che dopo 50 anni viene ancora ad ascoltare la nostra musica e a festeggiare con noi questo anniversario importantissimo e questa riunione che in qualche modo ha segnato qualcosa di veramente inedito perché non eravamo mai stati in cinque sul palco, con questa formazione non abbiamo mai suonato perché quando c'era Riccardo non c'era Red e quando è arrivato Red non c'era Riccardo, quindi ritrovarci tutti insieme a festeggiare, a suonare, a far musica è sicuramente una grossissima emozione. Essere una pagina della storia, aver creato una pagina della storia di Poo ed essere stato il capostipide di tutto, io ti vedevo da bambino come il comandante di una nave che viaggia sulle onde della musica dietro quella batteria, tu comandavi questo che cosa significa per te? Ma diciamo che tutti abbiamo comandato quello che sapevamo fare ci siamo inventati dei ruoli che nessuno ci ha assegnato e siccome erano le nostre peculiarità, erano le cose nelle quali appunto riuscivamo a muoverci meglio alla fine ognuno si è specializzato in qualcosa io facevo appunto quello che gestiva un pochino la parte manageriale e anche se vogliamo la parte live show e tutti gli altri hanno fatto la loro parte straordinariamente bene e che cosa si prova a stargli dietro? Beh, è sicuramente ripensare a un percorso lungo fatto di fatica, sì sicuramente ma anche di tante belle emozioni, di tante soddisfazioni, di tante valigie perse in giro per gli aeroporti ma anche se vogliamo tanti amici seminati qua e là qualcuno l'abbiamo perso, qualcun altro l'abbiamo ritrovato e sicuramente essere lì dietro a quello che tu chiami appunto la cima di una nave è sicuramente un bel veleggiare I PUR hanno fatto tutto, hanno inventato un genere musicale e ogni volta ha cambiato quel genere musicale perché siete entrati sempre in nuove prospettive avete inventato il live show, qualsiasi cosa, in Italia tutti vi copiano c'è qualcosa che i PUR non hanno fatto? Eh, a voglia, ce ne sono tantissime che non abbiamo fatto abbiamo fatto forse abbastanza bene quello che abbiamo messo insieme siamo stati molto curiosi, abbiamo avuto voglia di crescere non ci siamo fermati, ci siamo messi in proprio in tempo per non essere fagocitati dalla grande industria per decidere da soli quello che volevamo fare per spendere i nostri soldi come noi li volevamo spendere a volte in dimensione che se fossimo stati all'interno di una discografica non ci avrebbero mai consentito perché noi abbiamo sempre puntato senza fare i conti di quanto chi sarebbe rientrato e molto spesso non ci è rientrato però eravamo contenti lo stesso perché facevamo quello che avevamo in mente giocavamo a fare la musica perché poi in inglese si dice to play vuol dire veramente giocare ecco non abbiamo perso il senso del gioco la musica per noi è diventata veramente una maniera di raccontare noi stessi di raccontare le nostre piccole storie la fortuna di essere autori, editori, produttori tutto quello che in qualche modo manca solo che ci compriamo i dischi poi abbiamo fatto il giro completo e questo ci ha autorizzato veramente a essere autonomi diciamo che realtà di questo tipo queste fortune sono capitate a pochissimi artisti e noi siamo stati abbastanza fortunati probabilmente l'abbiamo fortemente voluto e quindi diciamo che alla fine non voglio dire che ci meritiamo quello che abbiamo ma sicuramente se qualcosa è arrivato è perché ci abbiamo lavorato solo io pianto la prima volta quando tu hai lasciato il puro ora mi verrà di nuovo da piangere quando andrai via che succederà ora? la musica non ha prospettive future non ci sono gruppi che vi possano che possano dire un giorno sono gli eredi dei pu? ma io mi auguro di sì anzi io quando ho cominciato a suonare mi sentivo dire da quelli grandi la tua non è musica e rumore ecco a noi arrivano tantissimi provini di ragazzi, di gruppi e quant'altro e delle volte rimango un pochino fulminato perché magari c'è scritto accanto io canto è uguale a Renato Zero lascia perdere, già c'è Renato Zero ecco quando io ascolterò qualcosa che mi verrà da dire la tua non è musica ma è rumore vuol dire che qualcosa sta cambiando e da quel cambiamento sicuramente nasceranno un sacco di altre nuove realtà importantissime che mi auguro superiori anche ai pu io mi sono commosso già passato ecco avete scritto con la vostra musica colonne sonore per generazioni c'è una in cui è particolarmente legato? sì, più di qualcuna sicuramente una in particolare è quella che ho dedicato ai 50 anni di matrimonio dei miei genitori quando appunto festeggiarono questa tappa incredibile che voglio dire per me era sempre stata così lontanissima, non ho mai potuto pensare di riuscire a farmi durare una storia più di quanto durano i yogurt io ho una scadenza precisa consumare preferibilmente entro in quella canzone ho raccontato un pochino la storia dei miei, la storia della mia famiglia tutte le volte che la ricanto mi viene da commuovermi, da emozionarmi e quindi è sicuramente una delle cose alle quali vengo di più a proposito di commozione ci sarà anche per lei immagino dopo il 31 dicembre quando si chiuderà questo capitolo importante della musica italiana ma sicuramente ogni sera è un'emozione perché in ogni città dove passiamo è praticamente l'ultima volta per cui io questo abbraccio come dico dal palcoscenico l'avevo già provato quando appunto qualche anno fa avevo deciso di smettere di fare il suonatore di tamburo però devo dire che l'idea di risalire su quel palco per festeggiare questa ricorrenza incredibile questo traguardo che non avremmo mai immaginato di poter raggiungere insieme ai miei amici sicuramente è una buona cosa quello che sarà poi forse la speranza è che la nostra musica vada oltre e quindi magari tra qualche anno ascolteremo ancora delle nostre canzoni per radio e diremo ah questa me la ricordo magari col play sulle gambe col gatto accarezzandolo di fronte al camino e ci verrà da dire eh sì mi ricordo quando l'abbiamo fatta questa canzoncina ecco a proposito del poi come cambierà la sua vita dal primo gennaio 2017? progetti futuri? diciamo che ritornerò forse a rifare perché io credo che dai 60 anni in poi io li ho superati da un bel po' uno deve un pochino improvvisarla alla vita soprattutto se ho avuto la fortuna di percorrere un itinerario che è andato bene magari scoprire cos'altro c'è perché noi per tutta la vita o almeno io ho fatto soltanto il Poo non ci ho avuto neanche le famiglie per cui non ho gli alimenti da pagare alle moglie e quant'altro e non ho questo assillo e quindi l'idea di guardarmi intorno e di così progetti per il futuro io ce n'ho progetti sia per il futuro che per il gerundio direi che vivrò vivendo per cui quello che sarà sarà perfetto allora non ci resta che ringraziare Stefano per la disponibilità e tante belle cose ancora grazie 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 a presto grazie a tutti